A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, beh non sta procedendo nel migliore dei modi come speravamo in tanti però comunque questo clima grigio, spesso grigio, a tratti piovoso, anche se effettivamente a volte procura dei danni e non solo però quantomeno è in linea con il periodo, con questo ponte di ogni santi e dei morti. Vediamo cosa accadrà nella giornata di venerdì prima parte con cielo irregolarmente nuvoloso ma pochi fenomeni, tra il pomeriggio e la serata a partire dalla Lombardia e dal Levante Ligure le nuvole che ritorneranno da Est tenderanno a peggiorare e verso sera nuove piogge si potranno rivedere anche sul Piemonte quindi prima parte della giornata variabile con molte nuvole, con qualche timido raggio di sole poi progressivamente tornerà a peggiorare, temperature che non faranno registrare appunto grandi cambiamenti al più un lievissimo incremento delle temperature massime ma proprio lieve è tutto cari amici, nonostante il tempo un po' bizzarro io vi auguro di trascorrere un buon fine settimana in questo lungo ponte, arrivederci